A pochi giorni dalla riapertura delle scuole francesi sono stati chiusi 22 istituti, di cui 10 oltre mare e un centinaio di classi nel complesso per casi di positività al Covid. Ad annunciare il ministro dell'educazione Blanchet, su 60.000 istituti spiega 12 le scuole chiuse sul territorio francese in Europa, un numero esiguo, aggiunge, altre 10 sull'isola di Reunion, dipartimento francese nell'oceano indiano, circa 250 i protocolli per sospetta positività, precisa il ministro, attivati ogni giorno, casi correlati aggiunge a fattori esterni alla scuola, spesso a persone che potrebbero essere state infettate prima dell'inizio delle elezioni. La Francia intanto fa i conti con la ripresa dei contagi, ieri oltre 7.100 i nuovi positivi, in leggero aumento come i ricoverati in terapia intensiva. Su un'altra isola, in Grecia, a Lesbo, Oxfam e Consiglio Greco per i Rifugiati lanciano l'allarme per il campo profughi di Moria. Dopo il primo caso di positività, spiegano, la pandemia rischia di causare centinaia di vittime, tra persone già stremate da condizioni di vita disumane, di cui la richiesta da Atene Unione Europea di intervenire per evitare che l'emergenza si trasformi in catastrofe sanitaria. Intanto, mentre la rivista scientifica Lancet pubblica i primi esiti positivi della sperimentazione sul vaccino russo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede di non aspettarsi una vaccinazione diffusa fino a metà 2021. La fase 3 spiega l'OMS e richiede più tempo perché bisogna vedere quanto il vaccino sia veramente protettivo e sicuro.